Buono, sei fortunato, vado in Cina, vabbè allora forse, Cina originale, il reporter c'è? Paolo poi te devi mettere qua a fianco, vedi, tu è altro, io c'ho paura, sti cosi non mi faccio, intanto poi devi venire tu, fa il galletto che poi qua c'è dei chissaturi, che ce penso io, ecco fatto, poi i galletti vengono spennati, come è il nome scusa? Alessandro, avete chiamato il salto? Sì, sì, vieni Alessandro, sali con le punte fuori dalla pedale, bravissimo, questa non è paura, è concentrazione, sì sì, concentrazione, ok, bravo Alessandro, bravissimo, saluti il fotografico, no, ma niente fotografico, non fa niente, ma lui lo fa lo stesso, dai con le braccia, 3, 2, 1, jump, ma dai! Aspetta, aspetta, oh oh oh!